Ciao ragazze! In questo video voglio mostrarvi cosa troverò nell'undicesima casellina dell'Avento di Essence Il calendario dell'Avento è questo qui Come sapete ogni giorno vi sto mostrando cosa c'è all'interno della casellina del giorno Vediamo insieme cosa c'è, qual è la frase carina E passiamo insieme un piccolo momento in attesa che arrivi il Natale Comunque la casellina numero 11 Praticamente non la trovo sinceramente Questa qui con il pinguino, quindi davvero molto carina Anche questa è comunque stretta e lunga, anche se è più corta rispetto agli altri Adesso vediamo cosa c'è all'interno La frase del giorno è The beauty del lip care E ho trovato praticamente un balsamo a labbra Questo si chiama The Balmy Kiss Monstering Lip Care con olio di mandorla All'interno ci sono 4,8 grammi di prodotto E a 6 mesi di pow La colorazione è la 04 Treat Me Right Ma sicuramente non colorerà Magari sbocciandola un po' si vede il colore Ma effettivamente non sarà un rossetto Quindi sicuramente serve più che altro per Per Ammorbidire le labbra Per culare le labbra La colorazione è questa Infatti così sbocciato si nota Ma sicuramente con la pigmentazione delle labbra Non si noterà Ha comunque una profumazione molto molto dolce Di fragola È molto carina E di solito io questi non li acquisto mai Ne avevo provato uno l'anno scorso Che avevo trovato nel calendario dell'avento E non mi era piaciuto Perché era di una colorazione molto molto chiara Mi rendeva le labbra proprio bianche Non mi piaceva Questo essendo un po' più colorato Dovrebbe essere migliore Non dovrebbe Diciamo Fare le labbra bianche come l'altro Però in generale l'altro mi è piaciuto Come balsamo labbra Non mi piaceva solo per il fatto che Rendeva le labbra così bianche Quindi l'ho utilizzato in casa Perché non uscivo con le labbra così bianche E niente Fatemi sapere cosa ne pensate di questo calendario dell'avento Se vi stanno piacendo le sorpresine che sto trovando Oppure se vi aspettavate qualcosa di più Quale calendario dell'avento state facendo voi Se è piaciuto il video mettete mi piace E ci vediamo domani Ciao